buongiorno a tutti e bentornato ad andrea cionci buongiorno margherita grazie ancora per l'ospitalità è un vero piacere essere qui con voi allora andrea oggi parliamo di viganò che si è appena espresso su michelle obama ma mi pare anche non solo su michelle obama ma anche sulla moglie di macron giusto come mai tutta questa attenzione verso questi personaggi pubblici in questo periodo si viganò continua a regalarci passi falsi e autosabotaggi che per me non derivano tanto diciamo dall'età ma derivano da una sapiente strategia di autosabotaggio perché come vi ho già detto varie volte io sono convinto personalmente che viganò e bergoglio si siano accordati per spartirsi la torta e per trarre il reciproco vantaggio da questa separazione tipo poliziotto buono poliziotto cattivo no come sapete viganò è stato chiamato a processo pochi giorni dopo la deposizione della mia istanza al tribunale vaticano quarta caso lui sdegnosamente rifiuta di farsi processare disconosce bergoglio non per la sede impedita di benedetto che pure aveva ventilato nel 2022 perché aveva scritto sul blog di aldo mariavalli bisogna fare luce sull'abdicazione di benedetto perché se l'abdicazione non è valida sarebbe provvidenziale in quanto bisognerebbe fare tabula rasa di tutto e infatti aveva colto nel segno poi quella cosa non si sa com'è l'ha sempre più scartato e messa da parte quindi viganò si fa la chiesetta sua di tradizionalisti si prende un sacco di offerte con l'associazione ex urge domine bergoglio si tiene le 60 tonnellate d'oro del vaticano tutto il resto l'apparato l'istituzione e ognuno si spartisce la torta in questo modo tra gli ultimi passi falsi non solo ricordiamo quello di aver detto che bergogliano nel papa per pizio di consenso ecco una teoria completamente palotta mutuata dal diritto matrimoniale potrebbe avere un senso solo se si trovasse una lettera scritta da bergoglio durante i lavori del conclave in cui magari lui dice sì non vedo l'ora di essere eletto papa per fare a pezzettini la chiesa cattolica allora potrebbe avere un senso questo vizio di consenso ma è assurdo quando hai l'autostrada spianata della declarazione benedetto addirittura inesistente prima ancora che nulla invalida la universi dominici registi dice che se la la vacanza della sede per il rinuncio del poltefice non è avvenuta a norma del 332.2 quindi la rinuncio al mus l'elezione che ne consegue venuta invalida un'autostrada del sole in discesa per cacciare bergoglio e farlo arrestare no quello non va bene toglietemi tutto ma non il mio bergoglio perché appunto i due traggono reciproco e questo vizio di consenso è una bufala è un'altra bufala la bolla di paolo quarto perché che cosa dice paolo quarto nel nel cinquecento dice che nessun eretico può essere eletto papa ora per eretico si intende non uno che scrive una sciocchezzuola che cade in un errore dottrinale in buona fede ma per eretico si intende uno che rifiuta scientemente un dogma e pervicacemente dopo essere stato corretto e ne fa una bandiera lutero svingli erano eretici calvino erano eretici cioè quelli che hanno fatto il rifiuto di un dogma una bandiera un movimento una tesi ripeto ripetuta in modo pervicace ecco qui in tutto questo in bergoglio non c'è traccia perché è vero che scrisse qualche scempiaggini che poteva afferire all'indifferentismo religioso prima di essere eletto papa ma parliamo di robetta da niente quindi anche con la bolla di paolo quarto guarda caso non ci fate niente e adesso veniamo all'ultima castroneria che ha sparato perché criticando a questione delle olimpiadi come sapete le manifestazioni blasfema lui dice non è un caso che a patrocinare questa rivoltante kermesse vi sia un emissario del world economic forum emmanuel macron che spaccia impunemente come propria moglie un travestito esattamente come barack obama si accompagna un nervoluto in parrucca ripeto macron spaccia con propria moglie un travestito e barack obama esattamente si accompagna un nervoluto in parrucca ora questa è una vecchia questione magari l'avranno sentita molti di voi cari spettatori sicuramente è una vecchia diceria che circola da alcuni anni però non ci sono prove certe ora se una cosa del genere venisse provata io non mi stupirei di niente perché ormai di cosa ti vuoi stupire abbiamo un falso papa sul trono di pietro da 11 anni ti stupisci se barack obama per moglie un travestito eccetera tutto è possibile il problema qual è è che queste cose bisogna provarti ricordiamo che viganò oltre a essere un ex arcivescovo cattolico è comunque un ex museo apostolico negli stati uniti è un fine diplomatico oggi rappresenta purtroppo il paladino della chiesa antagonista a Bergoglio anche se una chiesa eretica e scismatica fare affermazioni del genere a parte la volgarità e la bassezza di simili considerazioni ma tu puoi permetterti di farle se sono suffragate da prove certe in opinioni cioè io prima di dire che che la moglie di un presidente di una nazione è un travestito cioè ci penserei due volte raccoglierei un bel po di dati e invece viganò non si non si perita di di approfondire tale questione siamo al chiacchiericcio siamo al gossip ora so che alcuni fra di voi si rappelleranno e che diranno ma no ma che è cosa risaputa eccetera eccetera è cosa risaputa ma tante cose sono risapute pure non vere cosa risaputa pure che benedetto sedicesimo ha abdicato però non è vero quindi non è che tutto quello che circola in giro siccome circola è vero e così ho fatto una ricerchina perché mi aveva anche curiosito stuzzicato questa questione della michelle obama e della moglie di macron dei loro mariti io penso tutto il peggio possibile eh sia chiaro quindi sono andato proprio contro eh le mie corde nel difenderli da queste accuse ma almeno per michelle obama ho trovato del materiale interessante ecco quando ho visto questa foto che vi mostro per prima effettivamente ho fatto un salto sulla sedia che si vede un giovane obama in atteggiamento affettuoso con un ragazzetto di colore si si percepisce chiaramente un velo di barba sul viso di questo qui ho visto anche quest'altra fotografia eh della gioventù di obama dice accidente ma questo sembra michelle però sembra a tutti gli effetti un uomo un ragazzo poi però ti fai un giretto sul web e trovi le foto originali ecco vedete la prima foto l'originale si vede chiaramente tra l'altro è molto più nitida eh più a colori questa fotografia e se ingrandite l'attaccatura dei capelli del presunto Michael cioè il maschietto che 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 abbracciato Obama si vede come hanno taroccato l'attaccatura dei capelli per dargli una stempiatura più maschile vediamo anche nell'altra foto che abbiamo visto prima l'originale anche qui la fotografia originale è molto più definita molto più chiara di quella che invece propone Michael ho anche trovato delle fotografie di una giovane Michelle Obama da ragazza studentessa da bambina eh possiamo anche vedere in questa foto il collo di Michelle che non presenta il pomo da d'amo e qualcuno dirà eh beh si è fatto operare d'accordo va bene tutto però bisogna provare che Michelle Obama si è fatto operare alla carotide alla alla laringe per eh farsi una plastica in modo da rimuovere il pomo da d'amo cioè queste cose vanno provate vanno provate eh tra l'altro ascoltiamo questo breve discorso di Michelle Obama per sentire la sua voce ecco eh Michelle Obama è una donna dal fisico giunonico sicuramente sopra il metro e settantacinque eh io ho una certa esperienza nel mondo della voce perché sono diplomato in campo vent'anni di carriera come baritono solista quindi vi posso dare un un expertise diciamo un po' competente allora la voce di Michelle Obama è una voce sicuramente non da soprano leggero non troppo acuta è una voce morbida mezzo sopranile ma sicuramente una voce femminile ecco la voce è tra le cose impossibili da modificare per un travestito tanto che per esempio si diceva anche di Amanda Lear ma Amanda Lear effettivamente ha un tono di voce molto basso molto basso più che contraltile e questa cosa effettivamente poteva far sospettare qualcuno ehm ma eh come vedete le falsificazioni che sono state operate sulle fotografie giovanili di Michelle Obama la mancanza di pomodadà la eh tono della voce anche la struttura fisica vedete bene che ha i fianchi larghi ehm si vede anche da questa foto che abbiamo abbiamo fatto vedere prima il braccio è tipicamente femminile perché il polso è sottile l'omero è affusolato non c'è nessun tipo di struttura fisica che possa eh far pensare a un giovane eh nero eh maschio anche perché poi i maschi neri di solito sono piuttosto muscolosi quindi si vede subito se eh se è un uomo o se è una donna proprio dalla struttura fisica quindi come vedete io direi che al 95 per cento Michelle Obama è una donna a tutti gli effetti le sue colpe vanno ben al di là del fatto di essere uomo di essere un travestito sono colpe politiche colpe morali colpe ideologiche complicità con il marito che è un personaggio che io definirei demoniaco per quanto mi riguarda eh ma bisogna essere eh corretti perché i figli della luce non possono usare armi sporche non possono usare le fake news anche perché questo è assolutamente suicida dal punto di vista strategico perché se tu ti opponi a una verità di regime massiccia diffusa dal mainstream devi portare delle prove inoppugnabili se no quelli ti dico subito ah vabbè ma tu sei il terrapiattista sei il complottista eccetera perché io me la prendo con Viganò non perché abbia nulla di personale non interessa niente della sua persona ma lui danneggia la causa danneggia la magnaquestio danneggia la chiesa danneggia la patria danneggia l'italia perché sapete bene che questa usurpazione del trono petrino è un problema enorme per la sicurezza nazionale perché voi avete uno che non è il papa che non è che si limita a inserire le ruggiate nella messa o a fare i suoi riti sciamanici no è uno che interviene pesantemente nella vita pubblica italiana ecco ti ricordi quando c'era giovanni paolo secondo benedetto sedicesimo era un continuo accusare di ingerenza la chiesa ha ancora l'ingerenza della chiesa adesso che Bergoglio ci dice anche di che colore dobbiamo avere il pigiama no lì non c'è più l'ingerenza della chiesa tutti obbediscono a benedetto sedicesimo gli erano detti di tutti i colori anche i media mainstream se lui diceva che bella giornata lo criticavano anche per questo Bergoglio con tutte le cose che spara e tutti i suoi silenzi tutte le sue i suoi avalli questioni come anche quelle ultime delle olimpiadi eccetera eccetera nessuno dice niente è qualcosa di mostruoso dimostruosamente raccapricciante preoccupante quindi se viganò fa finta di attaccare Bergoglio ma poi di fatto spezza la punta a tutte le armi che lo possono deporre è chiaro che diventa il migliore amico di Bergoglio e questo mi dà anche modo di fare alcune riflessioni di natura simbolico e scatologica no ecco sappiamo che secondo cattolici stiamo vivendo una fase particolare per non dire gli ultimi tempi per non dire l'apocalisse si parla di anticristo che ha per numero 666 sappiamo che il cognome Bergoglio da per numero 666 secondo l'alfabeto asci sappiamo l'ottimo studio di armando savini che diciamo mettendo a fattore comune per le profezie della chiesa i padri della chiesa i veggenti mistici beati le mariofanie eccetera eccetera questo anticristo dovrebbe essere proprio un vescovo un vescovo vestito di bianco accusivamente papa ecco quindi diciamo se possiamo avere un'idea chi possa essere l'anticristo resta da considerare chi sarebbe questo falso profeta falso profeta dovrebbe essere regola di bassica un religioso che però supporta l'anticristo e qui mi fermo qui ti fermi ma mandato quello su cui non mi fermo è il denunciare beh diciamo in termini biblici sia l'anticristo che il falso profeta sono mandati dal diavolo eh però questo riguarda i credenti naturalmente ehm quello su cui non non posso tacere è la tecnica di appoggio che che vigliano opera nei confronti di Bergoglio schermandosi dietro l'essere apparentemente sull'antagonista non fatevi fregare non fatevi ingannare da vingannò perché uno che dice peste e corna di Bergoglio e poi non affronta mai le questioni con cui rimuoverlo e invita solo a resistere e non a rimuovere l'usurpatore è uno che sta facendo il gioco dell'usurpatore perché di fronte a una questione del genere anche se ti sta antipatico sciocci anche se ti sta antipatico benedetto sedicesimo però uno ci passa sopra no accidenti c'è c'è in ballo la sopravvivenza della chiesa passiamo sopra le antipatie personali no se devo rendermi conto di di una cosa in modo tardivo vabbè alla fine aveva ragione sciocci effettivamente benedetto è lezione impedita cacciamo tutti insieme questo comportamento da cattolici ma infatti vedete bene che che vigliano non è cattolico è un uomo dominato da una superbia gigantesca non ha voluto ascoltare chi lo consigliava per il bene non ha voluto obbedire al papa benedetto sedicesimo ha pensato di essere più intelligente di cui ha pensato di essere più intelligente dello spirito santo ha impugnato la verità che è uno dei peccati contro lo spirito santo che non saranno perdonati quindi io la situazione anche spirituale di viganò la vedo molto difficile perché vergoglio comunque svolge un ruolo escatologico è un cooperato al veritatis come lo definiva lo stesso benedetto sedicesimo un po come la figura di giuda che svolge diciamo un ruolo utile al progetto della salvezza ma la figura di viganò è forse una figura ancor più subdola perché uno che sembra nemico di vergoglio ma in realtà lo appoggia ecco la situazione è complessa però quando la si riconduce alla logica e quindi al logos può diventare anche più semplice da analizzare e da capire ecco infatti permettimi di aggiungere una cosa hai detto bene qui la guerra fra logos e pathos tra la ragione che svela la verità e che quindi deve essere gelida ghiacciata neutra asettica vedete io sulla questione di obama pur non potendolo vedere però ho dovuto dire fermi tutti non spacciate cretinerie perché poi se voi dite che a moglie di obama transessuale e quelli vi dimostrano il contrario e va a carte 48 dalla vostra causa non bisogna essere motivi se si cede di un millimetro all'emozione si è già in pasto al diavolo in pasto al nemico eh tra l'altro adesso viganò è riuscito in un'opera diabolica nel far maturare un odio ai cattolici verso i veri patri verso giovanni paolo secondo benedetto sedicesimo paolo sesto eh adesso sta depistando anche su giovanni ventitresimo ha pubblicato un documento che ha diffuso in Italia Cesare Sacchetti io chiamo l'uomo dei condizionali perché uno che molto difficilmente porta dei dati di fatto inoppugnabili ma dice sempre sì sì adesso il deep state sta crollando sta crollando sono dieci anni che deve crollare non è ancora crollato ehm utilizza il condizionale in modo compulsivo ma si dice dovrebbe essere qualcuno ha detto eccetera tutte dicerie vociferazioni mai nulla di soldo adesso sta dicendo che Giovanni ventitresimo era un pedofilo era un pedofilo e che il conclave del 58 è stato pilotato eh dagli americani dalla scia attenzione perché se voi vi fate mettere su da questi propalatori di presunte documentazioni finite nell'eresia eh perché se cominciate a considerare invalida l'elezione di Giovanni ventitresimo la chiesa dovrebbe essere finita da almeno 40 50 anni e quindi andate contro il dogma dell'indefettibilità della chiesa contro il dogma della successione petrina perpetua e cadete in eresia scisma e scomunica attenzione ad ascoltare queste voci questi eh condizionalisti e eh questi che fanno gossip tipo Viganò che afferma che le mogli di Obama e di Macron siano dei travestiti io spero che qualcuno dall'ambasciata gli faccia pervenire una bella denuncia per diffamazione ehm perché eh è importante che arrivi un segnale beh allora innanzitutto ringraziamo Andrea Cionci per la sua precisione per la sua stimata precisione perché è dote rara di questi tempi tra i giornalisti e quindi ringraziato se non altro per questo grazie per la tua presenza qui Andrea grazie a voi per la pazienza un caro saluto a tutti e poi ritorneremo sull'argomento nelle prossime settimane grazie a tutti e buona giornata a tutti e buona giornata a tutti